Musica come a vedere come è se! alla fine check how is how se rio more is that it settle In questo momento, in la comunità di Caimito, in il puente sobre il rio Cana, Carretera Vieja, dove questo programma ha fatto ecco di la denuncia dei cittadini di questo luogo per il trattamento massivo di nazionali haitiani che sta succedendo in questa zona. Con il nostro programma abbiamo fatto la denuncia e vediamo in questo momento la effettività del ejército della Repubblica Dominicana che ha venuto, che ha accaduto per controllare questa situazione.